Un cordiale saluto ai tanti telespettatori di Lucanet Web TV che ci seguono sempre più numerosi sulle principali piattaforme social, dunque soprattutto su Facebook e Instagram. Oggi parleremo di cronaca sindacale, infrastrutture, cultura e sport. Partiamo con la cronaca sindacale, Raffaele Annale è il segretario dei sindacalisti, dei quadri della FCA di San Nicolò di Merfi che vive un momento delicato e importante. Sentiamo. Associazione Capi e Quadri Fiat, siamo con il segretario regionale, parliamo di un'organizzazione che è firmataria del contratto, no? Già da qualche anno firmataria di contratto, facciamo parte dell'esecutivo nello stabilimento Fiat insieme alla Fismic e Wilm e rappresentiamo i capi e i quadri a livello nazionale. 25 anni oggi, una giornata davvero importante, no? 25 anni è importante soprattutto per noi che siamo entrati 25 anni fa, 25, 26, 27 anni fa che abbiamo fatto tutto il corso di formazione partendo da Torino. Abbiamo visto l'affermarsi della popolazione della Basilicata qui, quindi possiamo confermare che l'investimento è stata una cosa giusta in Basilicata. E' stata una tappa questa di 25 anni che diventa però un trampolino di lancio a seguito dell'insediamento dei nuovi modelli tipo la Compass che ci portano ad essere l'unico stabilimento Jeep in Italia. Sarà il 2020 l'anno del definitivo rilancio? Perché in questo momento insomma c'è davvero una crisi congiunturale che ha portato al CDS e che sta creando non poche problematiche ai dipendenti. Quindi la Fiat sta facendo gli investimenti, quindi non possiamo che essere fiduciosi e ce la mettiamo tutta. Bene, ed è prossimo l'annuncio dell'avvio della produzione della catena di montaggio della FCA per la nuova Jeep Renegade Compass. Ne daremo conto nelle prossime edizioni del nostro notiziario. Adesso parliamo di infrastrutture inaugurata a Palazzo San Gervasio, la nuova palestra dell'ITC. Rosa Maria Mollica. Inaugurata a Palazzo San Gervasio dal presidente della provincia Rocco Guarino, la nuova palestra annessa all'ITC Camillo Del Rico, ricostruita in toto dall'ente di potenza sulle ceneri della precedente struttura sportiva. Ad illustrare le caratteristiche del nuovo impianto reso fruibile anche all'esterno della comunità scolastica e per andare incontro alle esigenze singolari e molto rilevanti della specialità di badminton praticata a livello nazionale dalla scuola, è stata l'ingegnere Tiziana Cappa, che ha curato la direzione dei lavori ed il relativo procedimento. Il costo totale dell'intervento ricostruttivo è stato di 600.000 euro, spesi su un finanziamento di 736.000 euro da parte del MIUR. I lavori sono iniziati nel gennaio 2018 e sono stati completati a settembre 2019. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato Michele Mastro, sindaco di Palazzo San Gervasio, il presidente Rocco Guarino, che ha evidenziato come si tratti di una struttura prototipo di interventi che puntano all'efficienza e alla sostenibilità. In questo caso c'è stata attenzione alla vulnerabilità, che è per noi prioritaria. Ora tocca a voi, è stato l'ospicio del presidente, conservare e migliorare la capacità di utilizzo della stessa struttura aperta al territorio. Mentre il sindaco Michele Mastro ha affermato che il nuovo plesso sportivo si colloca in un programma che prevede un attento ed importante sviluppo della comunità palazzese, indirizzato ad una migliore qualità dei servizi offerti alla comunità scolastica, testimoniando la particolare attenzione che si pone nei confronti dei giovani, ai quali viene offerta un'opportunità in più per svolgere esercizio fisico e le attività sportive, insostituibili fattori per una crescita armonica ed equilibrata. È di grande soddisfazione per la comunità palazzese e per l'intera comunità scolastica avere una struttura di questo livello, capace di soddisfare le richieste di attività motoria dei nostri giovani al fine di avvicinarli sempre più alle varie discipline sportive. Questo istituto ha visto passare migliaia di giovani che sono cresciuti grazie all'impegno e all'amore di tanti insegnanti che ancora oggi ricordiamo con affetto e gratitudine. Abbiamo un grande patrimonio che dobbiamo saper amministrare con nuovi investimenti. Se vogliamo guardare avanti ad un futuro che prosegua nella straordinaria crescita, dobbiamo avere il coraggio delle nostre scelte e dobbiamo metterci in gioco. Bene, gli eventi dopo la varola e tempo di falconeria a Melfi. Ce la presenta Paola Laviano. Paola Laviano, 38 anni, ma Paola 26 anni fa tuo padre Nino Laviano organizza il primo raduno di falconieri a Melfi. Fu un grande evento. Sì, 26 anni fa papà ebbe questa grande intuizione e organizzò il primo grandissimo raduno di falconeria. Probabilmente mai eguagliato, no? Perché è stato davvero un capolavoro di organizzazione, uno spettacolo clamoroso, ancora se ne parla oggi. 26 anni dopo voi continuate piano piano a ricordare quell'evento e quest'anno siamo alla 26esima edizione che si svolgerà come? Sì, con immensa fatica. Devo dire che 26 anni dopo continuiamo ancora quella che è stata la prima grandissima impresa e si svolgerà l'evento in tre giornate, l'ultimo weekend quindi di ottobre. Partiremo da venerdì, quindi venerdì, sabato e domenica. Partiamo da venerdì. Che cosa accadrà? Gli appuntamenti salienti di venerdì? C'è un programma dettagliato? Puoi sicuramente leggere qualcosa. Allora, venerdì partiamo con l'allestimento di un accampamento medievale. Ci saranno anche mostre medievali, giochi medievali. Tutto questo dove si svolgerà venerdì, Paola? Nel castello e nel fossato. In più, il pomeriggio ci sarà un convegno dal titolo La Falconeria da Melfi al Mondo, presieduto dalla professoressa Trombetti. E passiamo al sabato, il giorno successivo. Ovviamente grande animazione al castello, il vostro corteo storico che ormai è diventata una realtà assoluta. Che cosa accadrà? Che cosa vedremo sabato? Ci sarà anche la mattina l'apertura dei campi di caccia, per cui con falconieri a livello nazionale. Anche perché, Paola, resta il falco, no? Tanto caro Federico II, il protagonista assoluto di questa kermesse. Certo, resta il falco e in occasione appunto di questo evento ci sarà anche il maestro Gerardo Brami, che farà volare le sue aquile e i falconi. Quindi darà anche spettacolo, insomma. Tutto questo si potrà vedere al castello, senza necessariamente spostarsi sui campi di caccia, che comunque ospiteranno tanti appassionati. Certo, ospiteranno tanti appassionati sia il sabato mattina che la domenica. Lo abbiamo fatto in apertura, Paola, rifacciamolo in chiusura. Tutto questo oggi è possibile grazie a tuo padre. Certo, tutto questo è possibile grazie a Nino Laviano, che ha dato la possibilità a Melfi di essere riconosciuta anche dall'UNESCO come capitale della falconeria. Con voi collaborano tanti gruppi che arrivano un po' da tutta l'Italia meridionale. Ne citi qualcuno? Sì, certo. Abbiamo gli Ordo Cavalieri Termole di Termoli, gli Arceri Piceni, l'Associazione Culturale Audax di Attamura, il Gruppo Storico Città di Catanzaro, Cavalieri di Velletri, il Gruppo Arceri Turist Maior di Torre Maggiore, Regina Giovanna D'Angio di Colletorto e Contrada Torre dell'Astrolovo di Manfredonia. Tante associazioni, Paola, coordinate da? Dall'Associazione Falconieri Nino Laviano, dall'Associazione De'Arte Verandi e ovviamente anche dall'Amministrazione Comunale. Insomma, per vedere questo magnifico spettacolo che state allestendo bisogna essere qui venerdì, sabato e domenica. Un tuo ultimo appello ai tanti turisti che arriveranno a Melfi? Ai tanti turisti posso solo dire di venire assolutamente a vedere sia tutta la manifestazione, cortei tu, da partecipare veramente a tutto perché ne vale la pena. E chiudiamo con lo sport come sempre. Il Melfi vince a Brienza e adesso davvero si candida per un posto nei play-off anche se la società giallo-verde getta acqua sul fuoco e ferma, frena i facili entusiasmi. Sentiamo il portiere dei giallo-verdi, Giuseppe Pinto. Sì, sì, domenica è stata una vittoria importantissima per noi anche perché loro erano una squadra ben attrezzata e diciamo che nessuno se lo aspettava questo risultato. La sensazione è che insomma siete partiti piano perché siete arrivati, vi siete assemblati tardi, ma più si va avanti più si vede un Melfi gottosto. Sì, naturalmente siamo partiti troppo tardi, parecchio tardi. Però pian piano ci siamo amalgamati bene e stanno venendo fuori risultati previssati. A questo punto l'obiettivo stagionale qual è? Resta solo la salvezza o pensate a qualcosa di più? L'obiettivo è quello di salvarci. Poi quello che verrà lo accetteremo. Come ti trovi con i nuovi compagni in difesa, difesa tutta nuova rispetto all'anno scorso? Bene, bene, come anche l'anno scorso. Sono un'esperta e buoni giocatori. Questa è una squadra che si deve salvare il prima possibile e poi si proverà a togliersi qualche soddisfazione? Sì, l'obiettivo primario è la salvezza, poi già l'ho detto. Quello che verrà lo accetteremo ben volentieri. Che gruppo si è formato nello spogliatoio? Appunto fino a settembre ancora non vi conoscevate molti. Sì, siamo veramente un bel gruppo. Siamo tutti uniti anche perché siamo tutti bravi ragazzi. Davvero un gruppo speciale. Prossima trasferta? Andiamo sul campo dello sceria, non è un campo facile. Pure la squadra, una squadra attrezzata, sarà anche domenica una battaglia. Vedremo come andrà. Noi ci metteremo sicuramente il massimo. Era l'ultima intervista, grazie per la cortesia attenzione a risentirci nelle prossime edizioni di Lucanet Web TV. Io vi ricordo che ci trovate sulle principali piattaforme social, dunque soprattutto su Facebook e Instagram. A risentirci.